Con lo sguardo dello spirito si può superare il razzismo e indifferenza, lo ricorda il Papa nel messaggio in occasione della Catholic Media Conference 2020 in cui esorta essere uniti in un'epoca segnata da polarizzazioni anche nella comunità cattolica. Ascoltiamo. Costruire ponti e difendere la vita, questo è l'appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio alla Catholic Press Association, l'associazione della stampa cattolica degli Stati Uniti e del Canada in occasione della conferenza che si chiude il 2 luglio destinato ai mezzi di comunicazione. Un appello a unire seppur nella diversità, infatti il tema scelto insieme mentre siamo separati che esprime il senso di unione pur nel distanziamento imposto dall'emergenza sanitaria. Il Papa, richiamandosi anche al messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali dello scorso anno, mette in luce proprio quanto sia essenziale la missione dei media per tenere unite le persone, accorciando le distanze e fornendo le informazioni necessarie, aprendo le menti e i cuori alla verità. Una presa di coscienza importante, questa che portò già alla creazione dei primi giornali cattolici negli Stati Uniti. Oggi, come allora, ha detto il Papa, le nostre comunità hanno bisogno di media per informare e unire. L'ideale dell'unità nella diversità nel motto degli Stati Uniti deve ispirare anche il servizio che rimarca, offrite al bene comune. Un bisogno che per Francesco è ancora più urgente, oggi, in un'epoca caratterizzata da conflitti e polarizzazioni da cui non sembra essere immune nemmeno la comunità cattolica. E nel messaggio il Papa spiega come si dipani concretamente questo per quanti operano nella comunicazione. Abbiamo bisogno di media capaci di costruire ponti, ha detto il Papa, difendere la vita e abbattere i muri, visibili e invisibili, che impediscono il dialogo sincero e la vera comunicazione. Ricordando che c'è anche bisogno di media che possano aiutare le persone, soprattutto i giovani, a distinguere il bene dal mare, ad elaborare giudizi corretti, basati su una presentazione dei fatti chiara e imparziale, a comprendere l'importanza di impegnarsi per la giustizia, la concordia sociale e il rispetto della casa comune. Abbiamo bisogno, ha concluso Papa Francesco, di uomini e donne di principio che proteggano la comunicazione da tutto ciò che la potrebbe distorcere o piegare ad altri scopi.